Filippo Nogarin, sindaco della città di Livorno. In Sala Ferretti, in Fortezza Vecchia, sindaco, si parla di crociere e di turismo. È un settore molto importante per l'economia di una città. Un settore assolutamente importante nell'ottica di quello che sarà un nuovo corso della città di Livorno, perché Livorno chiude un ciclo industriale di città con forte vocazione di industria pesante e rimane invece quello che è un settore che era molto sviluppato agli albori della città, lo è stato molto meno per tanti anni e ora si ripropone come un settore sicuramente interessante da coltivare, da sviluppare, perché può essere la chiave di svolta completa di quella che è l'economia della città, insieme naturalmente al settore del porto industriale. Quindi direi che è molto importante, molto importante sul piano soprattutto del dialogo che c'è tra chi gestisce il porto e nella fattispecie la Porto 2000, che è il settore che gestisce il traffico passeggeri, e la città, questo va da sé. D'altra parte i passeggeri necessitano di mille servizi in città e viceversa, e quindi va da sé che queste sinergie devono essere presenti, forti, devono avere una chiara vocazione che è rivolta soprattutto ad alzare la qualità dei servizi, soprattutto per chi si affaccia in città all'arrivo nel porto di Livorno. Sindaco, cosa si può creare in città perché i turisti si trattengano un po' di più a Livorno e non vado a una città vicina, anche se sono importanti, mi raccomando? Ma io credo che dobbiamo soprattutto metterci nell'ottica di creare opportunità, percorsi che siano chiari, semplici, che siano fruibili, dove deve nascere l'imbarazzo da parte delle persone di cogliere le opportunità. Percorsi importanti nell'ambito della cultura, artisti incredibili sono passati da questa città e non dobbiamo dare certamente l'alibi di non partecipare a questi percorsi semplicemente perché non sono facilmente fruibili. Modigliani, Mascagni, cioè qui veramente abbiamo l'imbarazzo della scelta, però l'imbarazzo noi che la viviamo, chiaramente li conosciamo, quelli che si affacciano qui sul territorio dovrebbero però avere queste stesse opportunità. E poi dopo arrivare alla parte enogastronomica, per la quale anche qui possiamo esprimere moltissimo, non necessariamente della città di Livorno, però nella provincia di Livorno abbiamo i vini più importanti del mondo e secondo me abbiamo un'opportunità di sinergia tra appunto questa qualità di vini presenti in provincia di Livorno e un gran numero di persone che si affacciano in città, anche per fare marketing territoriale, per fare promozioni, quindi sono tutti ordini di grandezza attorno ai quali poter sviluppare economie di sistema.